Gratuitamente online le novelle brevi di Sicilia dell'autore palermitano Andrea Giostra. Un progetto in processo che nasce nel 2017 e si rinnova periodicamente. Pubblicato a puntate in una sorta di romanzo d'appendice tipico di fino a 800 e inizio 900, in diversi magazine online, sia nazionali che regionali. Tutte le novelle si possono ascoltare sempre gratuitamente dal canale YouTube e dal canale Facebook Watch. Le novelle che valorizzano attraverso aneddoti e racconti di vita alla nostra isola, adesso sono anche state tradotte in altre lingue. Questa è una cosa che mi fa moltissimo onore, di cui sono veramente lusingato, perché è una delle più importanti case editrici della Romania, che si chiama Casa Catti d'Estina, che è estinta, che è una case editrice di cui Napoca, la capitale della Transilvania, una regione culturalmente molto vivace, che ha da sempre ospitato diverse popolazioni, dove tra l'altro è anche una città multilingue, dove c'è una, se non la più importante università della Romania, e quindi questa casa editrice, attraverso contatti che avevo, mi ha contattato per tradurre e pubblicare in rumeno questa raccolta di novelle. Quindi questa è una grande soddisfazione, un grande onore per me, ma anche per chi in Romania leggerà queste piccole storie siciliane, che raccontano come tu, ben sai, insomma, fatti della vita quotidiana dei palermitani, dei siciliani, diciamo, in generale. Che riscontri hai avuto in questi anni da queste novelle che sono pubblicate online e sono anche lette da diversi attori e artisti conosciuti? Ma i riscontri sono stati veramente al di là e al di sopra di qualsiasi aspettativa che potessi mai immaginare, perché la prima cosa che ho fatto nel 2015-2016 è stata quella di rendere fruibili gratuitamente le novelle in diversi formati, sia in PDF, che attraverso dei vari blog, sia attraverso la pubblicazione su diversi giornali nazionali e regionali, come se fosse una sorta di romanzo d'appendice, quindi appuntate, e quindi, diciamo, sostanzialmente da diversi canali si possono leggere gratuitamente, si può scaricare il PDF o l'ebook, insomma, quello che è. E poi negli anni si sono, diciamo, diversi attori, adesso siamo arrivati a 30 attori che hanno letto uno o più novelle, ricordo soltanto l'ultima in ordine di tempo, ma non voglio assolutamente trascurare gli altri, che ringrazio pubblicamente, l'ultima in ordine di tempo, proprio il 5 agosto scorso, è stata una bravissima attrice palermitana, Rosaria Maniscalco, che ha recitato una delle novelle in occasione di un spettacolo che ha venuto al Teatro Zappalà di Palermo il 5 agosto scorso. ...le vie principali del centro storico, col naso all'insù e l'indice che taglia in due la guida Turin della Sicilia.